Qual è il ruolo della statistica all'interno della FAO e questa attività? Quanto impatta sull'attività generale dell'organizzazione? La statistica è una attività fondamentale della FAO, è prevista come addirittura nel mandato della FAO, come nell'articolo primo della Costituzione della FAO. Si può riassumere un ruolo duale, da un lato crea le competenze tecniche e il supporto necessario per le azioni più programmatiche della FAO, delle altre divisioni in termini di policy analysis e supporto ai paesi, produce i dati essenziali che sono utilizzati a livello mondiale e dall'altro aiuta i paesi a migliorare il loro sistema statistico nazionale e a monitorare quindi gli obiettivi sia nazionali che internazionali di sviluppo. Dove va oggi l'agricoltura e le statistiche? Come ci aiutano a misurarla? L'agricoltura ha di fronte a sé una serie di sfide fondamentali come climate change, come l'incremento della popolazione e il dover sfamare un numero crescente di persone nel mondo. Diciamo che l'agenda 2030 riassume in modo abbastanza comprensivo, molto complessivo, le sfide di fronte all'agricoltura e gli obiettivi che l'agricoltura si deve porre nei prossimi 15 anni. La statistica ha un ruolo fondamentale perché aiuta a definire le politiche, disegnarle, identificare i beneficiari e poi monitorare i progressi che si fanno e valutare l'impatto delle politiche sulla popolazione. A Roma, proprio perché Roma è la sede di tre agenzie dell'ONU che si occupano di sicurezza alimentare e perché c'è una fattiva e lunga collaborazione con l'Istat su una serie di aspetti, soprattutto nell'area ovviamente di ricerca metodologica, ma anche di assistenza ai paesi, in collaborazione poi con il Ministero degli Affari Esteri. Quindi noi cerchiamo di collaborare su una serie di paesi a migliorare le loro statistiche anche con l'aiuto di expertise che proviene dall'Istat.